Pietraglieri, nato a Palermo il 9 giugno 1959 nel rione della Guadaglia, soprannominato Usignorino, questo soprannome si dice che sia stato affibbiato gli per il modo elegante di vestire. Amava il lusso e gli abiti di un certo stile, è vero, ma io aggiungo che questo soprannome in primis gli è stato tramandato dal nonno Vincenzo, che proprio chiamavano Usignorino. Entrambi, sia nonno Vincenzo che Pietro, sapevano parlare e interagire bene con le persone, e so che vi starete domandando se già dal nonno Vincenzo la loro famiglia era legata a quelle mafiose. Beh no, non era una tradizione di famiglia. Pietro infatti da giovani aveva preso il diploma al liceo classico con il massimo dei voti, avendo già da allora una vera passione per la filosofia, oltre che al latino e al greco. Dopo poco iniziò gli studi in un seminario di Monreale, senza però portarli a termine. Abbandonò gli studi da seminarista per prestare servizio militare nei paracadutisti della Brigata Fulgore. Verso la fine degli anni 70 entra a far parte di Cosa Nostra, che venne combinato nella famiglia di Santa Maria di Gesù, dove il capo famiglia era Stefano Bontate, uno dei più potenti boss palermitani di quei tempi. Ma in realtà ieri era molto amico del fratello di Stefano Bontate, Giovanni. Fu proprio il fratello del boss a convincere Pietro ad entrare nella famiglia di Santa Maria di Gesù. Questo forte legame di amicizia di Pietro ieri con l'avvocato Giovanni Bontate cambierà molto nella vita di Pietro e tra poco ne vedremo il perché. I due fratelli di Santa Maria di Gesù erano i figli di Francesco Bontate, meglio conosciuto come Don Paolino, potentissimo boss che dovette lasciare al figlio Stefano dei redini della famiglia per motivi di salute. Ma nel 1977 Giovanni Bontate, con l'uccisione di Alfredo D'Afforre e Giuseppe Barbera, si alleò alla fazione dei corlonesi di Torina, che secondo il pentito Buscetta, Giovanni voleva sostituire il fratello Stefano al comando della famiglia. Negli anni successivi scoppiò a Palermo la seconda guerra di mafia, dove i corlonesi di Totori fecero una vera e propria mattanza a Cosa Nostra, abbattendo tutti i rivali uno dopo l'altro e ne prese il potere. Il primo a cadere fu proprio Stefano Bontate, il 23 aprile del 1981. Qualche mese prima Stefano Bontate tentò di uccidere Ilina, che nel frattempo stava prendendo potere all'interno della commissione, violandone le regole e uccidendo Giuseppe di Cristina e Pippo Calderone, e ottenendo l'estromissione del capo della commissione Tano Badalamenti. I tre avevano ordinato l'uccisione di un suo caro amico, Iddu Madonia, legatissimo a Totori Ina. Così a quel punto Totori Ina ordina l'uccisione del boss Stefano Bontate e tutti i suoi fedelissimi. Ma ecco che succede lì una cosa strana. Totori Ina lascia in vita Giovanni Bontate e i due uomini più fidati, tra i quali c'è proprio lui, Pietro Aglieri. Molti pentiti e non solo, dichiararono i dissiti che Giovanni Bontate aveva con il fratello Stefano, e alcuni di questi arrivarono a dire che Giovanni aveva tradito il fratello per prendere in mano la famiglia. Alla fine di tutto questo però Totori Ina, che era diventato poi il capo dei capi, non nominò mai Giovanni Bontate capo della famiglia di Santa Maria di Gesù, ma sostituì Stefano con il suo vice capo, Pietro Loiacono. Totori Ina dunque si limitò solo a risparmiare la vita di Giovanni e i suoi uomini. Da quel momento Pietro Aglieri si legò moltissimo ai corleonesi, in particolar modo con Zuppinno, Bernardo Provenzano, avendo ottimi rapporti con Totori Ina, mentre non legò molto con il cognato del capo dei cavi, Luchino Bagarella. Nel 1983 si presume che eliminò il vecchio boss della mafia Benedetto Grado, ucciso con cinque colpi di Calipro 38. Questo omicidio ha avuto poi un fatto molto curioso. La Benetton usò la foto dell'omicidio che ritraeva la moglie, la figlia e la nuora del boss vestito di nero e seduto davanti al boss ucciso steso a terra accoperto da un lezzuolo bianco. La usò per promuovere le nuove magliette colorate. Nel 1985 fu incriminato per la prima volta per traffico di stupefacenti, venendo però assolto per mancanza di prove, ma in quegli anni fece fortuna proprio con la droga, trattando direttamente con i colombiani. Il 7 ottobre del 1986 accade un fatto particolare. Gli hanno ucciso un bambino di 11 anni, colpito a sangue freddo in mezzo agli occhi. I suoi genitori non centravano nulla con la mafia. La madre aveva una cartoleria, mentre suo padre era un dipendente della SIP, che da poco tempo aveva aperto una ditta di pulizia. L'incrocio delle cose fu che l'uccisione del bambino avvenne nel pieno del maxiprocesso alla mafia, e la ditta di pulizia del padre aveva in gestione l'appalto di pulizia dell'aula bunker, dove si svolgeva il maxiprocesso. Alcuni giornalisti accostarono l'omicidio del bambino alla mafia. Questa accusa infamante spinse Giovanni Bontate, imputato al maxiprocesso, a prendere le distanze da questo delitto del bambino, leggendo un comunicato, dove però usò il noi, e cioè che cosa nostra potesse uccidere il bambino innocente. Ma quel noi, per i giudici, voleva significare noi mafiosi, ammettendo così per la prima volta la loro esistenza, che fino ad allora era stata sempre smentita da imputati e avvocati. Quest'errore di Giovanni Bontate fu pagato con la vita. Il 28 settembre del 1988, i corleonesi incaricarono i killer di uccidere Giovanni Bontate, che venne eliminato insieme alla moglie. L'incaricato dell'omicidio, secondo i collaboratori, pare sia stato il suo amico, Pietraglieri. Florina, come premio della sua fedeltà, lo nominò capo mandamento di Santa Maria di Gesù. L'anno successivo, 1989, dopo avverse contraddittudini, gli venne pentito Francesco Marino Vannoia, soprannominato ischimico, perché si occupava della raffinazione della morfina base neroina. Faceva parte proprio della famiglia di Santa Maria di Gesù, che fu il primo a fare il nome nel maxico locesso di Pietraglieri, rivelando tutto quello che sapeva sul suo conto, mettendo di fronte agli inquireni una figura di un boss diverso da tutti gli altri e dicendogli che forse non lo avrebbero catturato mai, perché era troppo furbo. Da quel momento Pietro diventò un latitante. Con le dichiarazioni dei pentili, Cosa Nostra subì molti danni dentro la sua struttura, e il mandamento di Santa Maria di Gesù non ne fu immune, anzi, subì un duro colpo. Ma è lì che Pietraglieri fece vedere tutto il suo carisma e la sua capacità organizzativa nel contesto mafioso. In poco tempo ricostruì il mandamento circondandosi di personaggi disposti a tutto per lui. I più fidati erano Carlo Greco, che era il suo sottocavo, e Natale Gambino, che era il suo consigliere. Qualche tempo dopo avvenne però la rottura con il capo decapito Torina, il quale gli aveva ordinato l'omicidio di un cugino del pentito, Salvatore Contorno. Dopo aver organizzato tutto nei minimi dettagli, al momento dell'azione, trovò l'uomo con in braccio sua figlia piccola. Pietro rinunciò a commettere l'omicidio. Il capo decapi per l'accaduto gli chiese spiegazioni, e aglieri gli spiegò che non se l'era sentita e che mai avrebbe ucciso una bambina. Secondo dei collaboratori di giustizia, dottor Ina gli avrebbe risposto che era sempre una nipote di un pentito. Ina cominciò a mettere in dubbio il suo coraggio, e cominciò a discluderlo da alcune riunioni della commissione, nonostante il suo mandamento era uno dei più importanti di Palermo. Da quel momento la loro omicizia venne meno, ma entrò a far parte delle grazie di Bernardo Provenzano, che loro assicurò che lo avrebbe preso sotto la sua ala protettiva e che lo avrebbe tenuto informato su quello che succedeva in Cosa Nostra. Zubinno vide in Pietro un uomo fedele, con grandi capacità criminali e allo stesso tempo molto riflessivo. Zubinno aveva capito che un giorno, quel teatro aglieri, gli sarebbe stato molto utile. Così, dopo l'arresto del capo dei cavi e di altri membri di Cosa Nostra dell'ala stragista, aglieri torna ad avere un ruolo di prestigio all'interno della commissione di Cosa Nostra, aiutando Zubinno a ritirare sull'organizzazione che si era molto indebolita, trovando nuovi contatti nella politica e nell'economia, rendendoli nuovamente potenti ma soprattutto invisibili. Hanno anche cercato di riallacciare insieme i rapporti con gli scappati, tutte quelle persone che nella seconda guerra di mafia sono stati costretti ad abbandonare l'Italia per avere salva la vita. Vicino a Zubinno riallacciò anche i rapporti con i cugini di Cosa Nostra Americana, rapporti che erano venuti a rompersi per la ferocia di Totorina. Pietro Agliere ormai aveva preso un posto di tutto rispetto al fiacco di Zubinno. Il 6 giugno del 1997 però Pietro venne arrestato a Bageria dopo otto anni di latitanza. Le forze dell'ordine arrivarono a Pietro Aglieri mettendosi dietro ad un sacerdote e venne arrestato anche lui per favoreggiamento, ma poi scagionato nel processo. Nel covo del Signorinu vennero trovati oltre 200 libri che trattavano di filosofia e religione. Una stanza invece era stata trasformata in una cappella con tanto di altare all'interno. Venne arrestato insieme ai suoi due uomini più fedeli, Natale Gambino e il suo capotecina Giuseppe Lamattina. Forse si erano riuniti per poter festeggiare il compleanno di Pietro che avveniva dopo tre giorni. Nei processi Pietraglieri, come membro della commissione di Cosa Nostra, venne accusato di essere mandante di numerosi omicidi, tra i quali il politico Salvolima e il giudice Antonio Scopendizzi. Ma poi venne assolto. Venne condannato per le stragi di Capace e Via D'Amelia, condannato all'ergastolo per le stragi, come condannato all'ergastolo per l'omicidio del boss Benedetto Grado. Agli inquirenti, quando fu catturato, sembrava in procinto di collaborare, ma poi decise di rinunciare a questa opportunità. Un uomo di poche parole, ma parole dette bene, nei processi non rispose mai, tranne un processo. Rispose solo per scagionare Vincenzo Scarantino dalla falsa accusa di aver partecipato alla strage di Via D'Amelio. Dopodiché, ma c'è una parola. Nel 2002, inviò una lettera al procuratore antimafia e al procuratore di Palermo, dove ha scritto che voleva dissociarsi da Cosa Nostra in cambio di benefici carcerari. Ma la richiesta venne rigettata. Ottenne però l'autorizzazione all'escrizione all'Università della Sapienza di Roma, all'indirizzo Scienze, Storico e Religiose. Il primo esame lo diede in una cella di Re Bibbia, la presenza di tre professori, che si complementarono con Pietro, che passò l'esame con trenta e lote. Uomo d'onore, molto carismatico ed elegante. Ha sparato quando c'era da sparare, ed era anche uno dei migliori. Ottenendo onore e rispetto, ma soprattutto quando è stato il momento di usare la mente e ragionare, è uscito fuori lui, con la sua smisurata intelligenza, ottenendo poi prestigio e immenso potete. Questo video finisce qui. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Se ti è piaciuto, lascia un bel like al video e soprattutto iscriviti al canale. È gratis e mi aiuti a crescere e portare nuovi contenuti. Spero di vederti presto nel mio canale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.